A otto anni di distanza da un delitto di indrangheta, stamane la svolta, gli arresti. Sono stati eseguiti a seguito di mirate indagini svolte dalle squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e dal Servizio Centrale Operativo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri. Ieri, nella tarda serata, le due ordinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di Roberto Porcaro e Massimo Delia, ritenute irresponsabili di omicidio aggravato dal metodo mafioso e di aver agevolato un'associazione mafiosa e porto illegale di armi. All'indagine hanno contribuito anche due collaboratori di giustizia. Sono state ricostruite le dinamiche del clai mafioso Lanzino Patitucci, che portarono all'omicidio di Giuseppe Ruffolo, deceduto nel 2011 dopo essere stato attinto da diversi colpi d'arma da fuoco. I due soggetti arrestati sono ritenuti il mandante e l'esecutore materiale del delitto. Ruffolo venne ucciso a 33 anni la sera del 22 settembre 2011 in pieno centro, a Cosenza, nei pressi di Via degli Stadi, mentre si trovava alla guida della sua auto, un Alfa Romeo Giulietta. Qualcuno lo aveva affiancato intorno alle ore 19, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco. In passato, Ruffolo era finito nelle maglie della giustizia, insieme al padre, entrambi i titolari di un'agenzia di trasporti, poiché ritenuti entrambi responsabili di alcuni episodi di usura e distorsione nei confronti di un dipendente pubblico della città. Soccorso e portato in ospedale, Ruffolo vi arrivò però già morto.